Amici del Bardo, eccomi di nuovo qui con tutte le ultime news dal mondo del pro wrestling. Iniziamo con Finn Balor, che ha rivelato una cosa molto particolare. Sostanzialmente, quando tanti anni fa decise di usare il body painting per la prima volta, il suo caro amico Karl Anderson cercò di sconsigliarlo in tutti i modi, arrivando a profettizzare che tutta l'arena gli avrebbe riso addosso. E per fortuna la previsione non si è concretizzata. E allora voglio chiedervi, è mai successo che vi sia capitato di dire questo lottatore non sfonderà mai, non mi piace, è scarso, durerà poco e poi invece è arrivato al top? Avanti, non c'è solo il Godzilla che fa le previsioni sbagliate, anzi catastrofiche. Fatemi sapere le vostre, quelle che nel corso degli anni si sono rivelate completamente sballate. Qua sotto nei commenti. Intervistata dal Mirror, Nikki Bella ha detto che secondo lei John Cena al microfono è il miglior wrestler di tutti i tempi e che nessuno si avvicina lontanamente al suo livello di eccellenza. Anche qui, siete d'accordo? Qua sotto c'è spazio per parlarne. Restando su Nikki, la ragazza parteciperà alla prossima stagione dal programma TV americano ballando con le stelle. Un'altra situazione importante per la ragazza che un po' come John Cena sta cercando di ampliare sempre più i suoi orizzonti. Così come Mike Cannelli sta provando a recuperare lo smalto dei giorni migliori visto che si sta allenando intensamente al Performance Center. Sin qui i match che ha disputato sono stati abbastanza noiosi, perdonatemelo ma è la verità. Chissà mai però che superando quei problemi di cui ci ha parlato, di cui ci hanno parlato lui e Maria di dipendenza e quant'altro, non riesca a rimettersi sulla strada giusta. Io lo spero, faccio il tifo per lui e incrocio le dita. Nel frattempo Shelton Benjamin, su forte pressione di Natalia, ha aperto il suo account ufficiale su Instagram. Quindi se vi va, se volete restare in contatto con lui, cercatelo. E a tal proposito vorrei chiedervi, ma voi su social seguite dei combattenti WWE? E se sì, quali? Qua sotto nei commenti fatemelo sapere. Molti atleti WWE sono protagonisti in questi giorni di azioni di beneficenza per le popolazioni colpite dal recente uragano Harvey. Tra di essi si è particolarmente distinto Mark Curry, in visita in Texas in alcuni dei centri che hanno subito i maggiori danni. Prima di non morsi, tra l'altro, Booker T dovrebbe condurre un live show i cui proventi saranno destinati proprio alle vittime del disastro naturale. Quindi a questi due che vi ho citato e a tutti gli altri che stanno facendo un sacco di cose, bravi, numeri uno. Finiamo con una piccola iniziativa personale perché sabato 16 settembre sarò nella fumetteria Il Labirinto di Bollate, proprio qua alle porte di Milano. Si raggiunge facilmente anche con i mezzi pubblici. E sarò lì dalle 11 alle 18, quindi dalla mattina fino al mediotardo pomeriggio, per insegnarvi a giocare a Magic, il gioco di carte collezionabili che ormai mi appassiona da tantissimi anni. Volete imparare? Non dovete portare niente. È tutto gratis. Anzi, vi verranno fatti pure dei regali. E visto che io sono presente in negozio, i regali saranno straordinariamente potenziati rispetto al solito. Volete saperne di più? Beh, tutte le news correlate a questa iniziativa le trovate sulla mia pagina Facebook nella sezione eventi. Poi ovviamente mentre giochiamo, beh, un pochino di wrestling lo si parla. Non è che parlo solo di Magic mentre si gioca. Vi insegno le regole, vi spiego come si gioca il turno, come si vince la partita, si fa qualche partita per l'appunto e poi discutiamo anche di WWE e di wrestling. Spero che verrete numerosi, l'iniziativa è carina, piacevole, bella, ripeto, totalmente gratuita, perché no? Qua sotto ora la palla passa nel vostro campo, avete un sacco di cose di cui discutere, dita roventi, non fate mancare il vostro supporto al canale. Yeah!